Ecco, questo è un esempio dell'infografica curata da Leonora nel numero di maggio. Ovviamente di mese in mese sono diverse, a seconda del tema è già toccato svariati ambiti e argomenti e l'infografica appunto si basa su un tuo prodotto grafico sulla base di una raccolta dati che viene fatta appunto in questo caso dalle redazioni e su cui poi tu lavori. Ho notato che scegli sempre di giocare un po' sui colori, quindi scegli delle tonalità che poi tornano nell'infografica. Insomma, io non sono un'esperta ma si nota ecco un'attenzione nei dettagli. Esatto, diciamo che ogni mese mi approccio e visto che le infografiche di solito hanno un tema, facciamo di solito due pagine, hanno un tema che le accomuna di usare la stessa linea grafica che possa essere per colori ma a volte anche per stile. Ma veniamo all'altro mondo di Leonora, l'illustrazione. Il mondo dell'illustrazione. Tu hai scritto già diversi libri, hai scritto e illustrato diversi libri e in particolare quello che mi è rimasto molto impresso è quello che hai curato con Emanuela Duran e tu hai fatto la parte appunto di illustrazione grafica, lei ha fatto la parte di scrittura dei testi perché appunto si tratta di una serie di libri che trattano il tema della biodiversità, quindi dei vari animali, vari ecosistemi. E c'è una cosa in particolare che mi ha molto incuriosita, questo rendere belli anche animali poco belli. Cioè c'era un libro in particolare che mi è piaciuto tantissimo e lì forse si vede anche il tocco artistico, cioè non è una questione solamente scientifica di rappresentare gli animali così come sono ma anche di rappresentare forse qualcosa che hanno dentro, non lo so. Io mi ricordo questa immagine della lumaca di mare che quando l'ho vista... Che non è proprio un animale di affezione, per eccellenza in effetti. Però quando l'ho vista, se la vedi anche tu l'illustrazione... La vuoi, ne vuoi una. Ne voglio una assolutamente. E così tu hai coniugato un po' queste due anime dell'illustrazione. Sì, assolutamente. Io sono piuttosto versatile nell'ambito dell'illustrazione perché mi occupo sia di illustrazione e di divulgazione, come quei volumi di cui tu stavi parlando, ma anche di illustrazione più quella che viene detta fiction, cioè più fantasiosa, quindi sulla narrativa, sui racconti, sugli albi illustrati. Però questa cosa ogni tanto mi permette anche di metterci un pochino di un mondo nell'altro. E come ad esempio in questo caso, sì, è una serie di libri di tipo divulgativo. Si chiamano gli attenti della biodiversità. Però in tutti questi volumi ho cercato comunque di dare un minimo di caratterizzazione a questi animali, anche se comunque la rappresentazione rimane scientifica. Infatti, sì, ci sono degli animali che, soprattutto in quel volume di cui parlavi tu, che è un volume dedicato su degli animali un po' insoliti, molti animali che non sono proprio simpaticissimi o possono suscitare tutto questo trasporto. Noi abbiamo scelti invece proprio per quello, per far capire che ogni animale all'interno del suo ecosistema ha uno spazio che ricopre, l'importanza che ricopre ed è strettamente legato a tutti gli altri animali che convivono con lui. Quindi da qui la scelta, ad esempio, della lumaca di mare, che in realtà è uno di branchi, sono degli animaletti veramente adorabili. Andatevi a cercare delle foto perché ci sono una varietà di colori meravigliose in queste lumacchine di mare. Oppure anche, insomma, dei sintenti che magari non sono proprio amati da tutti. Quindi abbiamo, sì, scelto di rappresentare diversi animali in diversi ecosistemi e uno di questi libri ha anche ricevuto la menzione d'onore dal premio di Rega Ambiente. È stato veramente un grandissimo successo. Bellissimo, bellissimo. Tu hai lavorato anche nell'ambito scolastico, già avori nell'ambito scolastico, quindi, cari ragazzi, cari ragazzi, genitori, ogni tanto può essere che trovate, senza saperlo, se non andando a leggere la parte finale del libro, però nelle illustrazioni che accompagnano ormai i libri scolastici che sono molto ricchi di disegni rispetto magari a qualche decennio fa, però ci sono anche delle illustrazioni di Leonora. Con quali case editrici, insomma, lavori? Allora, io ho collaborato varie volte con Giunti, con la scuola e quest'anno in corso c'è un libro che ho illustrato, un libro di racconti e una lettura, quelle che si chiamano letture, per il capitello. Ed è una cosa particolare, cioè quando tu illustri un libro per la scuola, hai dei vincoli maggiori, immagino. Sì, assolutamente. Infatti sono proprio dei tipi di illustrazione diversa. Ci sono anche delle persone che si specializzano in un solo tipo di illustrazione. Io ho, diciamo, la fortuna, poi anche la sfortuna, poi magari dopo vi spiego meglio, di spaziare molto. Però sì, ogni tipo di illustrazione ha un determinato canone da seguire. Quello dei libri di scuola è comunque vincolato a rappresentare in modo molto preciso quello che dice il testo. Quindi non ci si può permettere troppa, diciamo, fantasia, troppe metafore, perché questo è il tipo di linguaggio che viene richiesto. Però io trovo anche molto interessante spaziare tra questi diversi tipi di illustrazione che si può fare. E la sfortuna qual è? Quindi tanto... Sei un po' confusa. No, no, quello no. Io ce l'ho molto chiaro. Ma la sfortuna, parlando appunto del lato professionale, è far capire ai possibili editori cosa fai. Ah, ok. La proporzione. Esatto. Nel senso che io ho dei portfondi, infatti, molto separati, divisi per tipologia, però per rendere chiaro questo. Però è più difficile magari affermarsi, perché è un po' più difficile far notare, ecco, questa è l'illustratrice che fa questa determinata cosa precisa, chiamiamola, perché mi ricordo di lei. Io facendo cose un po' diverse, perché poi io sono una persona un po' iperattiva e mi annoio molto facilmente, quindi a me piace molto fare cose diverse. Però appunto c'è questa piccola difficoltà, diciamo, che da una parte per me è molto interessante farlo, è un po' difficile dal punto di vista della promozione. C'è un libro, Sara, accanto a Leonora. Sì, vedo anche che è scritto in francese, è molto colorato e c'è un galletto, è una rana, sono bellissimi. Di cosa si tratta? Allora, io ho visto che in realtà tutti i libri che devono uscire in Italia, appunto devono ancora uscire, quindi non posso farveli vedere, però ne usciranno diversi nei prossimi mesi. Mi ho portato uno che è uscito recentemente in Francia, che è questo volume, ed è anche questo, in realtà è un libro che è un po' un misto tra i vari tipi di illustrazioni che faccio, nel senso che è la storia di questi tre personaggi che vanno in giro per tutte le regioni della Francia e in ogni regione esplorano tutte le cose interessanti che si possono trovare. Quindi è di fantasia, perché poi i personaggini sono una bambina, una ranocchia e un galletto, però poi ha anche un intento effettivamente un po' divulgativo. Ah, qua c'è Carnac della Bretagna, cioè viaggiano. Viaggiano, questi personaggini viaggiano e in ogni regione scoprono un po' di storia francese. Sì, il galletto è poi un simbolo, uno dei simboli della Francia. Esattamente, infatti sì. Non è lì a caso, forse. La ranocchia, il galletto, e poi la bambina che è vestita come una Marianne. Ah, è vero. È vero. E come è arrivata questa collaborazione con una casa editrice francese? Allora, qui ci addentriamo un po' proprio nei meandri della professione, no? Se non è troppo complicato. No, no, non è un segreto, ma praticamente quello che io faccio e che fanno anche i miei colleghi è quello di contattare le case editrici che vedono affini al proprio portfoglio. Quindi è andata così. Io ho inviato il portfoglio a questa casa editrice, poi per un po' di tempo in realtà non c'è stato un seguito, no? Però poi hanno trovato un progetto adatto a me e quindi ho iniziato a lavorarci e adesso ne sto portando avanti un altro sempre con questa casa editrice che si chiama Circonflex Rue des Enfants e uscirà quindi poi prossimamente anche un altro volume con loro. Sara, hai delle curiosità? Allora, curiosità sì, ce ne sarebbero tante. Tu ne hai una, ne hai una. Allora lascio la parola a te, intanto ci penso. Ok, no, a me incuriosisce perché allora l'illustrazione per eccellenza da persone ignoranti è l'illustrazione a matita, colori sul foglio, ma ormai questo è l'anteguerra proprio. È una cosa da dinosauri. Immagino che per lo più lavoriate sui mezzi elettronici, digitali o c'è ancora un inizio, una base su carta e matita? Allora, la cosa bella è che ci sono tantissimi stili, tantissime persone che lavorano in diversi modi e quindi si può trovare di tutto. Da la persona che lavora esclusivamente in digitale alla persona che magari fa un misto, come faccio io, a persone che continuano a lavorare assolutamente in tradizionale. Quindi non c'è una vero e proprio regola, però diciamo che la preferenza verso l'illustrazione digitale forse viene più da delle necessità commerciali. Nel senso che ovviamente l'illustrazione digitale permette delle modifiche più rapide rispetto ad esempio a un acquarello. Io lavoro anche in acquarello. una volta che tu sbagli, metti una gocciolina di troppo su un acquarello, tu prendi il foglio e lo strappi. Mentre invece ovviamente con l'illustrazione digitale questo ti permette di fare invece delle modifiche. Ed è principalmente questo in realtà il motivo che porta magari tanti illustratori, quindi per necessità anche legate al tipo di progetto, a scegliere l'illustrazione digitale. Io quello che faccio è creare un mix, nel senso che la maggior parte del lavoro viene fatto in digitale, ma poi usando e integrando anche delle texture preparate ad esempio ad acquarello o degli elementi scansionati e disegnati poi integrati nell'illustrazione digitale. C'è spazio ancora anche per il tradizionale, volendo. Sì, ma io comunque infatti faccio anche acquarelli che magari invece uso per poi fare delle stampe, per esempio. Certo, certo. Una curiosità, qual è il tuo soggetto e la tua tecnica preferiti? Cioè se tu puoi scegliere liberamente qualunque cosa senza nessun vincolo esterno, cosa ti piacerebbe scegliere? Allora, sulla tecnica non ho una risposta, nel senso che a me piacciono entrambe, sia l'acquarello che il digitale. Dipende un po' dall'idea che ho inizialmente e poi in seguito all'idea capisco qual è la tecnica più adatta per rappresentarla. Come soggetto invece ho le idee molto chiare perché a me piace tantissimo disegnare gli animali, infatti comunque si vede che anche questo, nonostante non sia naturalistico... Se poi andate sui social di Leonora vedete un sacco di animaletti, è riuscita a rendere bella anche la cimice, quindi insomma, è proprio il suo amore questo. Sì, in realtà ho un debole proprio per gli animaletti più schifosetti, perché comunque... La sfida? Sì, no, perché comunque anche loro hanno una dignità e quindi la mia sfida è dargliela. E il lavoro più curioso... No, le cimici non vogliamo, non ce la puoi fare. Il lavoro più curioso che hai dovuto fare, che hai fatto, anche volentieri, insomma. Allora, sì, Ce l'hai? In realtà, sì, ce l'ho, ce l'ho il lavoro più curioso. Mi è capitato di fare per un privato, quindi una persona che mi ha richiesto un'illustrazione, un, diciamo, un tableau de mariage con degli sposi ed era molto spiritosa, diciamo, l'immagine che mi hanno chiesto, però non posso rivelare. Però era molto spiritosa. Pose, di forse. No, maliziosa. Ma al limite. Ma al limite, ma insomma, anche il tableau de mariage. Ma non un soggetto animalesco, cioè era un... Perché ci sono anche quelli che si ritraggono come maialini, come rospetti, quello era realistico. Ok, allora, dove possiamo seguirti, Leonora? Dove possono seguirti i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, o se qualcuno volesse chiederti, appunto, qualche disegno, qualche prestazione grafica, illustrata? Allora, mi potete trovare, in realtà, al sito internet, che è Leonora, senza lei davanti, quindi leonoracamusso.it, oppure sui social, come Leonora Camusso. Benissimo. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro, in bocca al lupo per tutte le tue attività. Grazie a voi, ciao, grazie mille. Grazie mille. E rieccoci, di nuovo in onda, dal Salone del Libro di Torino. Sarà a turno, insieme a Daniela Grilla, a condurre questa puntata specialissima, direi, di Voce delle Chiese, oggi dedicata tutta al tema dell'illustrazione, ovviamente un tema che qua al Salone la fa da padrone, e quindi abbiamo deciso di dedicare tutta questa puntata a una serie di illustratori e illustratrici. Abbiamo appena congedato Leonora Camusso, che però è ancora con noi, ci fa molto molto piacere, e abbiamo in lista d'attesa il nostro secondo ospite, anche egli, molto conosciuto dai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che è niente meno che Francesco Piobbichi. Buongiorno. Ciao Francesco. Ciao Francesco, benvenuto, benvenuto, bentornato. Insomma, noi ci siamo già sentiti al telefono, su Riforma appaiono delle notizie, degli articoli che riguardano i tuoi lavori. Tu sei un disegnatore sociale, ami definirti in questo modo. Cosa significa per te? Significa legare il disegno alla pratica sociale, e quindi costruire un racconto che in qualche modo mette la dimensione artistica a servizio del racconto senza estrarla. E questo secondo me è un punto importante che abbiamo maturato in frontiera, lavorando sul tema, diciamo, della memoria, ma anche sul tema della denuncia, sul tema del recupero delle storie. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo a Lampedusa, l'abbiamo fatto rimettendo a posto ad esempio le lapidi del cimitero di Lampedusa con dei simboli che in qualche modo ridanno dignità e senza nome. E lo stiamo facendo adesso con questo libro che sostiene D'Ambeso, questo ostello per lavoratori braccianti che appunto fuori dal buio, fuori dal ghetto. E questo libro finanzia l'ostello perché questa è un'altra cosa importante, lo abbiamo fatto con Cronache Ribelli che è una casa editrice indipendente che sta fuori ai canali della grande distribuzione e ci permette di dire un po' di cose che altrimenti rimanevano un po' sempre sotto traccia. E questo diciamo, per questo mi definisco disegnatore sociale, cioè il disegno al servizio del racconto e della pratica sociale collegato ad esso. Ma tu naci come disegnatore o come operatore sociale, tra l'altro operatore sociale in questo caso del MH, Mediterraneo and Hope, il programma rifugiati e migranti delle federazioni chiese evangeliche. Io inizio a disegnare in curva nord del Perugia, da Ultras, quindi c'ho tutta una storia particolare. Poi arrivo a fare anche l'operatore sociale, però il disegno non ho mai fatto una scuola artistica, ho fatto, mio padre mi ha mandato al professionale da piccolo, quindi... cioè è un tuo dono. No, più che un dono è... Ognuno di noi ha dei doni, il tuo dono è quello del saper disegnare, perché insomma, disegni del genere, vi facciamo anche vedere a chi ci sta guardando in video sul canale 87 o sullo streaming rbe.it e sono un dono, ecco, non è facile. Tu hai... queste tavole sono bianco su nero, ma hai fatto anche tantissimi disegni molto colorati che rappresentano il dramma dei flussi migratori? Diciamo, ho cercato di raccontare una cornice diversa, perché la cornice della piana di Gioia Tauro e il buio che io racconto lì non è fatto da assenza di luce, ma è un po' come se la frontiera impedisse alla luce di passare e quindi ho cercato di chiarire la polarità fra la luce e il buio in termini anche di ragionamento sui diritti e sulla cancellazione dei diritti e questo libro qua, quello va girato il disegno perché è un lavoratore bracciante che sprofonda nello sfruttamento della piana di Gioia Tauro e nelle arance che la grande distribuzione gli impone diciamo di coltivare agli agricoltori a basso costo e in qualche modo è assolutamente collegato il tema della frontiera questo libro inizia con il mare spinato questo mare che io ripropongo spesso anche negli altri disegni colorati però il mare che degrada i diritti dei vivi li maledice perché la frontiera gli rimane poi poi addosso per tutta la vita e però cancella anche la dimensione della memoria dei morti e quindi è come se la disumanizzazione della frontiera fosse il primo punto sul quale intervenire perché poi bisognerà lavorare anche sul tema dei diritti Sara i tuoi disegni sono di grande impatto sono emotivamente molto forti anche ovviamente a partire dal tema che rappresentano la tua carriera artistica nasce proprio forse da questo bisogno di rappresentare il dramma a partire da Lampedusa io mi ricordo tempo fa un'intervista che ti feci in cui appunto ti raccontavo ti chiedevo un po' di raccontare come era cominciata questa avventura tra te e l'illustrazione in particolare rispetto al dramma delle persone che morivano in mare e tu mi raccontavi di una scatola di matite di un noto di un noto come dire negozio di arredamento scandinavo era partita da lì la tua avventura era partita dal fatto che sostanzialmente avevo un po' la necessità di andare vicino al significato senza entrare dentro questa dimensione pornografica del dolore estrattivo in cui sostanzialmente tu in frontiera hai tutta questa come dire ondata di fotografi giornalisti che non hanno nessun rispetto anche dal punto di vista dello sguardo sempre uno sguardo coloniale perché le facce dei bambini africani vengono mostrate nella loro interezza mentre quelli italiani vengono offuscati dai pixel questo processo diciamo secondo me è un processo che ha a che fare con il colonialismo che ci portiamo dentro per questo uso il disegno e il disegno permette di arrivare al significato e permette al racconto di solidificarsi cioè di diventare pratica e di essere anche racconto politico noi abbiamo perso la narrazione non narriamo più c'è sempre qualcuno che narra per noi anche sul sociale è così c'è i professionisti della comunicazione ma in realtà noi dovremmo riuscire a ritornare al significato del racconto come trasmissione di memoria ma anche di memoria di sguardi diversi cioè in qualche modo il lavoro che stiamo facendo giù a Rosarno anche con Rosarno qui il festival è cambiare l'obiettivo e quindi questo dentro però è una pratica di lotta perché per noi l'ostello sociale vuol dire rompere la politica di razzializzazione di chettizzazione che viene imposta attraverso i campi attraverso le tendopoli attraverso quest'idea che i migranti devono essere sempre considerati come un problema d'ordine pubblico oppure gestiti anche con questi processi di infantilizzazione che in qualche modo li degradano come se fossero dei bambini in realtà sono forti perché si fanno la Libia si fanno il mare si fanno il deserto si fanno anni di lavoro e queste persone hanno necessità di avere protagonismo invece di essere considerate delle caselle di essere messi nei racconti che facciamo noi e questo va fatto anche con una pratica concreta il fatto che si è riusciti ad aprire 15 appartamenti a Rosarno dove il lavoratore contribuisce alla spesa ma dove sostanzialmente abbiamo fatto anche un altro grande lavoro cioè con SOS Rosarno abbiamo dimostrato che si può costruire una pratica di mutuo appoggio a partire dalla produzione coinvolgendo le chiese ad esempio perché le chiese tedesche ed italiane hanno comprato tantissime arance che ci aiutano a finanziare il progetto quindi questo è un progetto a costo zero è un progetto che non costa nulla la fiscalità generale da protagonismo ai lavoratori e al tempo stesso lo raccontiamo con questo libro che finanzia il progetto stesso è una rete quella che si è creata intorno al progetto Rosarno sono tanti gli aspetti che sono stati toccati ricordo ad esempio anche avete finanziato un progetto dedicato a una attenzione alla mobilità di queste persone che si spostano sovente senza magari delle adeguate illuminazioni sia sulle strade sia personali e purtroppo il risultato è quello che fa vedere adesso Francesco il punto è che diciamo ci sono noi vediamo i migranti o solo quando vengono coperti da un panno bianco quando vanno a fuoco le loro baracche nel senso che altrimenti queste persone non vengono mai viste fuori dal buio vuol dire proprio portare fuori questo tipo di ragionamento noi facciamo questo progetto che distribuisce i giacchetti catarifrangenti per i lavoratori e chiaramente è una riduzione del danno nel senso che mancando totalmente il trasporto pubblico queste persone continueranno sempre a rischiare quando tornano dal lavoro è una condizione la nostra e la loro soprattutto che dovrebbe essere letta come specchio del paese nel senso che poi sì Rosarno è diciamo il palcoscenico più estremo insieme a Foggia ma ci sono tantissime altre realtà in giro per l'Italia una vicino a noi nella zona anche del Saluzzese del Cunese ci sono varie realtà sì e anche lì vorremmo intervenire stiamo cercando di portare un ostello sociale anche lì e chiederemo poi l'appoggio di tutti e l'idea è quella di costruire una rete diciamo di autoorganizzazione perché ad esempio nel nostro ostello i braccianti si sono autoorganizzati e quindi noi siamo soltanto due operatori e abbiamo gestito circa 60 persone rispetto agli altri progetti statali oppure dei progetti diciamo anche del terzo settore che spesso si adagia su questo se noi diamo e investiamo sull'autoorganizzazione creiamo una ricchezza sociale nel territorio e soprattutto il tema è dovremmo iniziare a prendercela un po' con chi è che crea tutto questo che molto spesso se la risolviamo con la storia dei caporali ma in realtà i caporali sono sostanzialmente un po' come gli scafisti cioè se la prendiamo con i scafisti ma il problema è che chiudo le frontiere il problema invece è come hanno costruito la filiera agricola al cui principio principale c'è la grande distribuzione che organizza i prezzi e nessuno la chiama mai a contribuire alla spesa dell'accoglienza ad esempio noi stiamo dicendo con questo libro che vogliamo che almeno un centesimo per ogni chilo di prodotti agrumicoli prodotti nella piana di Gioia Tauro finisca per costruire un processo di case d'accoglienza diffuse trasporti mobilità e anche salari nel senso che secondo noi c'è un problema legato anche al salario rimanendo sullo stello d'ambesso non è solo struttura di accoglienza dove le persone possono trovare un luogo dove dormire dignitosamente riposare dopo le ore di fatica e di lavoro ma è anche un luogo dove chi vuole può soggiornare e partecipare a questo progetto è questo il punto riuscire anche a costruire dei luoghi che non funzionano solo dentro la categoria del migrante ma dentro la dimensione della mobilità dei lavoratori ma anche delle persone che vogliono venire lì per fare a basso costo magari una presenza di vacanza oppure studiare quindi ci vengono moltissimi ricercatori che altrimenti non avrebbero possibilità di essere ospitati noi li ospitiamo e questo produce sapere proviamo a ribaltare un po' la logica del sapere siamo noi che produciamo sapere e utilizzando i meccanismi che ci vengono ad esempio dati dall'università per costruire su questo un elemento di corricerca cioè dare protagonismo attraverso l'inchiesta ai lavoratori per cambiare le cose Sara hai qualche sì no moltissimi moltissimi stimoli nella tua attività di operatore sociale che ovviamente si interseca con quella di illustratore immagino che tu abbia incontrato tantissime storie anche molto brutte ma anche con degli aspetti di bellezza magari inaspettati e non so se ce ne vuoi raccontare una un incontro particolare che magari è confluito in una delle tue illustrazioni o magari no però un incontro particolare ne ho di storie che sono finite bene nel senso che drammaticamente la frontiera mi obbliga spesso a raccontare le storie dei senza nome degli invisibili che muoiono sia a mare che in terra ho questa storia che però mi porto con me che è una storia che nasce quando lavoravo per i corridoi umanitari in marocco conosco il ragazzino Keita che sta dentro la foresta vicino a queste città spagnole che vengono piene di filo spinato per non far arrivare i lavoratori vicino a Ceuta lo conosco perché lì lui prova fa il salto e poi perdo le sue tracce e me lo ritrovo qualche mese dopo in uno sbarco a Lampedusa e quindi è stata diciamo una cosa bella adesso lui sta a Parigi ma vedi il ragazzino che sostanzialmente lo conosci prima poi a un certo punto lui dice parto vado in Libia perdi completamente la notizia in quel periodo ci sono tantissimi morti e te lo ritrovi alle 5 della mattina dentro uno sbarco è stata una cosa abbastanza emozionale immagino e in generale ecco mi collego un po' con lo che ti chiedeva Sara come nascono i tuoi disegni cioè tu senti delle storie e le rappresenti o per la maggior parte dei casi invece sono slegate da episodi vissuti diciamo ho molto spesso la necessità di raccontare le storie quindi il disegno a disposizione della storia a volte io ho un po' la mente fotografica nel senso che ci sono delle immagini che mi colpiscono e poi le disegno e ci sono dei periodi in cui disegno tantissimo e poi a un certo punto anche per casualità come è successo su sto libro questi disegni vengono un po' montati nel senso che hai tanti disegni e nasce la storia attraverso i disegni che tu hai fatto a fine diciamo di quel periodo e questo era un periodo molto buio dal punto di vista del lavoro perché lavoravamo di notte andavamo nei casolari dove c'erano i migranti quindi ci portiamo dentro questo sfondo se a Lampedusa il contrasto era la bellezza dei colori con quello che succede in mare e qui il buio rappresenta proprio la cornice di fondo del fatto che Lampedusa toglie i colori ai migranti e quando arrivano arrivano in una cornice che non hanno più colore perché sono invisibili e quindi diventano ombre e quindi disegnare sull'ombra il bianco vuol dire cercare di raccontare quella verità che come dire ti porta proprio all'essenza quindi c'hanno un po' una profondità questi disegni qua senti io sfogliando il libro a me ha colpito questa immagine qua io non so se sia vera o no a me ricorda però una scena di un famosissimo film è così oppure non è questa qua a me ha ricordato E.T. il momento in cui nel film E.T. prendono il volo sulle biciclette e i ragazzini in vista della libertà di questo extraterrestre in realtà questo disegno rappresenta il porto di Gioia Tauro e la baraccopoli di San Ferdinando che è a pochi chilometri è a circa due chilometri dal porto e questo filo spinato è il filo spinato dove i lavoratori in bicicletta si muovono nella piana come se fosse nella precarietà più assoluta un bilico in realtà brava rischi sempre di cadere sotto anche perché appunto devono sempre giustificare la loro presenza quindi devono rinnovare il permesso di soggiorno col contratto di lavoro gli serve la casa quindi la residenza l'ospitalità e sono sempre sotto ricatto la cosa che sostanzialmente a me manda fuori di testa è quando tu senti piante e dosi ma anche i politici di centro-sinistra che dicono ci servono oppure sono carichi residuali queste persone hanno la necessità di avere lo stesso diritto alla mobilità che abbiamo noi occidentali finché la mobilità sarà soltanto per alcuni un privilegio avremo anche sfruttamento nelle nostre terre perché queste persone arriveranno qua per cercare una vita migliore però degradate invece il tema è riprendere la questione della mobilità come una questione anche da legare al tema del contratto di lavoro del salario minimo dell'accoglienza cioè ricostruire un'idea generale del tema della mobilità che riguarda un po' tutti ieri mattina parlavamo di un altro progetto grafico legato a MH e legato ai bambini abbiamo presentato il libro No Border Books il libro che è stato pensato proprio e dicevano gli ospiti c'era Maddalena della biblioteca Ibi di Lampedusa insieme a Giovanni D'Ambrosio e ci dicevano è un modo per ridare dignità ai bambini questo libro perché nessuno poi appunto li considera in quel momento loro sono dei piccolini invece la priorità è la priorità sanitaria la priorità legale la priorità burocratica e non c'è la priorità delle emozioni dei bambini in realtà questo libro un po' nasce anche dentro la pratica di quando stiamo al molo perché mi ricordo che iniziai a portare i gessetti lì e i bambini hanno cominciato a ritrovare la loro forma dopo le onde disegnando ad esempio il cerchio con le loro mani del proprio corpo riprendono contatto con la terra lasciano via dietro la paura della onda la paura del viaggio e ricostruiscono un contatto con la terra con la nuova terra e attraverso il segno prendono la forma secondo me è una cosa terapeutica anche e soprattutto però ci dice anche della mancanza di attenzione per questi soggetti per i bambini ma anche per i lavoratori ad esempio due mesi fa un lavoratore è stato aggredito mentre tornava dal lavoro spesso capita su Rosarno è stato aggredito è stato strattonato è andato si è fatto male e poi una volta curato è stato riportato all'agghetto di San Ferdinando lui era sotto shock e aveva paura di riprendere la bicicletta per andare a lavorare quindi era piantonato lì dalla sua paura quindi l'abbiamo in qualche modo con Emergenz abbiamo fatto questo progetto con la casa delle culture di Scicli lo abbiamo portato alla casa delle culture a Scicli adesso abbiamo provato a costruire un percorso personalizzato cioè manca completamente l'attenzione al bisogno queste persone sono considerate sostanzialmente solo braccia e quando le braccia non ci servono più diventano un problema d'ordine pubblico però sono la base delle cose che mangiamo dobbiamo sempre cominciare a guardare facciamo fatemi sta promessa quando andate nei centri commerciali in tutti i centri commerciali guardate da dove arrivano le arance troverete le arance che arrivano dalla Tunisia che arrivano dalla Sudafrica quelle arance sono fatte di sfruttamento o anche altri prodotti italiani cercate di capire sempre che quello che mangiamo ha il sudore la vita di queste persone che sono razzializzate perché devono essere compresse per tenere i prezzi competitivi ma c'è chi fa grandi profitti che è la grande distribuzione organizzata che non paga niente e forse è arrivato il momento di fargli pagare il maltolto come diceva il mio nonno allora dobbiamo chiudere Francesco grazie grazie per anche questa passione che ci metti nelle tue parole dove si può trovare questo libro come si può ordinare dove si possono informare insomma gli ascoltatori e le ascoltate questo libro potete ordinarlo su cronacheribelli.com c'è il sito cronacheribelli fuori dal meccanismo della grande distribuzione non lo troverete su Amazon quindi così come facciamo per le arance tagliamo la filiera e oppure mi contattate ve lo porto io oppure venite qua adesso Francesco magari si ferma ancora un attimo e lo trovate al padiglione 3 stand N146 con Radio Bequite con la nostra trasmissione che dire grazie grazie a voi buon lavoro grazie sono molto molto specializzato sul fumetto quindi sono ahimè temo solo un fumettista però il fumetto noi non conosciamo questi gradi di livello il fumetto ha più a che fare con la narrazione quindi perché è una narrazione illustrazione più ampio come sì l'illustrazione già più vicina al dipinto agli artisti quelli illuminati per noi siete tutti artisti voi che sapete tenere in mano la penna e usare il colore però il fumetto ha quel valore in più che è legato al fatto del raccontare storie quindi sì per l'incasione per il sentiero dicevo prima ho fatto dei laboratori nelle scuole dove partendo da un tema in questo caso era una riflessione sulle migrazioni e sulla storia locale perché di Pinerolo ed intorni partivamo poi a insegnare le basi del fare fumetti quindi un po' proprio le basi del made un fumetto del linguaggio e poi con le classi divise a gruppetti si realizzavano ognuno delle pagine a fumetto quello è bellissimo perché chiaramente vedere la creatività dei ragazzi delle ragazze che esplode e stupisce per esempio dei pazzi e delle pazze avevano fatto avevano reinterpretato la storia delle migrazioni con una storia zombie cioè una roba mettono gli zombie un po' ovunque mi sembra una roba super allucinante però io ho provato un sacco quindi tu come disegni come nasce un tuo fumetto parti dalla punta di matita o parti da altro? temo dalla superficie di una tavoletta grafica perché io lavoro esclusivamente in digitale pur avendo una conoscenza delle che percorso scolastico hai fatto giusto così per sapere allora io non nasco figlio d'arte poi il mio percorso formativo è totalmente non propedeutico perché ho fatto liceo classico e poi ingegneria ok però si immagina l'artistico no però siccome gli ingegneri sono persone bruttissime io posso dirlo per quanto ingegnere adesso faccio il fumettista a tempo pieno quindi sto cercando di redimermi e gli lavori sul digitale tu usci e lavoro in digitale perché è una cosa molto richiesta dal mercato editoriale dal mercato editoriale molto richiesta e quindi però bisogna comunque avere una cultura del del materico anche perché chi è privo di questa cultura e si approccia direttamente al digitale si nota perché bisogna sempre ricordarsi che gli strumenti digitali simulano delle tecniche resistenti certo faccio un esempio veloce per far capire conoscete tutti i stumtroppen di Bombi la celebre striscia ecco Bombi disegnava la matita poi metteva un lucido dove c'erano i colori tinte piatte un altro lucido le ombre e poi la china è lucido questi lucidi sono i livelli di photoshop quindi bisogna avere un po' la cultura di quello che c'è stato prima per poter restituire la stessa sensazione certo per esempio i colori del sentiero non li ho fatti io sono stato aiutato da Rocco Casulli che era un colorista però invece i colori di via Mayer li ho fatti tutti interamente io ed erano comunque sono a colori ad acquarello o a pastello eccetera eccetera quindi io cerco di restituire in digitale diciamo il disegno materico ecco però è bello il digitale effettivamente è molto comodo aiuta a velocizzare il lavoro ti permette di poter come diceva forse prima anche Leonora l'onora ottimizzare anche il tuo lavoro ed è per questo che purtroppo per fortuna è molto inchiesto sogno prima di fare un'opera totalmente tradizionale però magari più avanti adesso ci studiamo qualcosa fuori onda sicuramente troviamo qualcosa da farti fare penso che la storia sia una cosa che ti attira abbastanza i profili storici i ritratti quindi qualche proposta forse gliela possiamo farti beh sì chiaramente nel sentiero oltre a David e a De Nock appare dei personaggi storici abbiamo già citato Gianavello che è nel mio cuore chiaramente Gesù di Gianavello e anche Riannaud perché comunque il romanzo storico a me piace un sacco sono diventati a cercare anche i vestiti le ambientazioni il romanzo storico poi è ricco di insidi ma la cosa ancora più bella è proprio leggere le fonti perché è proprio sentire parlare persone che non esistono più e quella è l'ennesima occasione per ampliare la propria vita e noi viviamo nella nostra contemporaneità e già sentire come pensava come pensava e viveva una persona di un'altra epoca oppure banalmente interfacciarsi con le esperienze di migranti perché Enoch è un personaggio inventato ma in esso ha fatto confluire delle testimonianze che ho ascoltato grazie agli incontri di Mosaico quindi anche capire come anche capire la dimensione di fede per esempio di un battista della costa d'Avorio è diversa dalla dimensione di fede che so di un valdese oppure di qualcun altro eccetera quindi anche capire quello è un'occasione per uscire da me stesso e ampliare la mia vita ma in generale raccontare storie e leggere storie è un modo per moltiplicare se stessi direi che in Andrea si concentra bene il titolo del Salone dei Libri di quest'anno vite immaginarie è davvero un po' io vivo sempre fuori dal mio mondo in vite immaginarie per fare fumetti eccetera ogni tanto mi scuotono e mi ricordano che vivo nella realtà solita e beh il disegno ti porta da sempre in una dimensione altra quando disegno ti immergi in un mondo che sta tra te la tua penna il tuo foglio la tua immaginazione è proprio un momento anche distensivo che dire Andrea grazie per essere stato con noi io ricordo allora ecco uno lo do a Sara uno lo tengo io abbiamo i due libri Il sentiero e i molti sguardi di Vivian Maier e le due produzioni da cui siamo partiti che è la nostra chiacchierata insieme ad Andrea Tridico e buona continuazione grazie anche a voi grazie e buon disegno grazie continuiamo la nostra carrellata la nostra corsa di Voce delle Chiese edizione speciale il sabato solitamente Voce delle Chiese non va in onda su RBE ma oggi sì perché siamo al Salone del Libro di Torino e quindi insomma abbiamo approfittato anche della giornata del sabato per questo speciale che abbiamo intitolato Vita Immaginaria che è il tema del Salone del Libro di quest'anno in punta di matita perché perché i nostri ospiti le nostre ospiti sono tutti nell'ambito diciamo dell'illustrazione della grafica chi per lavoro cioè ha scelto questa strada e fa quello di lavoro chi invece così per passione giusto Sara che mi stai accompagnando in questa avventura sì oggi concludiamo la puntata con due ospiti a cui io sono molto molto affezionata perché sono due illustratori ma illustratori è riduttivo due collaboratori d'eccezione dell'amico dei fanciulli la rivista delle Chiese Battiste Metodiste e Valdesi edita da Edizioni Protestanti da tantissimo tempo abbiamo Alessandro Spanu che è stato un redattore da quando era piccolino all'inizio proprio della nuova serie diciamo dell'amico dei fanciulli nel 1989 poi ne parleremo più diffusamente e Max Cambellotti che ha cominciato forse come illustratore di racconti poi ha ampliato la sua collaborazione adesso cura anche rubriche di arte di scienza quindi è un personaggio poliedrico che conosceremo meglio oggi io ho portato anche qualche copia del giornale così possiamo approfondire eccole qua questi sono alcuni degli esempi di copertine dell'amico dei fanciulli e all'interno ci sono i disegni le illustrazioni di Sandro e di Max esattamente dicevo appunto Sandro hai cominciato a collaborare con l'amico dei fanciulli nel 1989 allora non si chiede l'età alle signore non si chiede l'età ai signori però essendo tu ancora molto giovane nell'89 eri proprio un ragazzino poi c'è stato un periodo di sospensione in cui giustamente hai fatto altro e adesso sei tornato a collaborare con l'amico dei fanciulli l'illustrazione poi tu anche hai cominciato a collaborare coi fumetti se non ricordo male quindi la tua vocazione di illustratore di fumettista precede quella di pastore accompagna quella di pastore come funziona perché tu nella vita fai il pastore battista nella vita faccio il pastore battista no no nettamente la precede allora io inizio nel 1989 con un fumetto e poi negli anni 90 collaboro stabilmente con l'amico dei fanciulli insieme a Floriana Blenat e poi con due mie amiche che erano allora mie compagne di scuola alla scuola di illustrazione del castello sforzesco di Milano e ci inventiamo un amico dei fanciulli che era fatto non solo in punta di matita ma anche in punta di forbice perché si costruiva tutto quanto tagliando ed incollando ed era un'esperienza molto divertente perché l'amico dei fanciulli si faceva in diretta cioè era raro che noi illustrassimo dei racconti che ci arrivavano piuttosto noi ci incontravamo e attorno a un tavolo illustravamo insieme e questo fu divertentissimo perché significava poi che le illustrazioni passavano di mano in mano per cui non soltanto ci confrontavamo su come stavamo costruendo le illustrazioni ma alcune nascevano proprio fatte a più mani allora quindi no in effetti il periodo in quando io ho collaborato più stabilmente con l'amico dei fanciulli fu proprio all'inizio degli anni 90 ecco un collegamento tra passato e presente ce l'abbiamo proprio su questo numero qua che in realtà è recente perché è il 2022 però abbiamo voluto recuperare dell'illustrazione appunto di quell'epoca che hanno trovato diciamo una nuova vita e anche la copertina ha trovato una nuova vita tu l'hai rielaborata e hai aggiunto un piccolo dettaglio che nell'originale anzi due piccoli dettagli che nell'originale non c'erano perché appunto dagli anni 90 come era il giornalino a come oggi sono cambiate un po' di cose negli anni 90 aveva un colore solo e quindi si costruiva l'illustrazione e poi si soprapponeva all'illustrazione la carta lucido qualcuno se la ricorda ancora la carta lucido e poi si colorava con un pennarello grigio le zone che si volevano in carta lucido la cosa divertente era che sbagliando imparammo a fare quell'effetto Andy Warlow per cui c'era il tratto e poi il colore era leggermente spostato ed era divertente era divertente speravamo di avere tanti colori ne avevamo soltanto uno ma come spesso capita il fatto di avere poche cose poi ti fa diventare più creativo lì ci sono i colori tanti colori peraltro dei colori molto materici e poi si c'è appunto Giuseppe che da bambino viziato con una tunica tutta colorata anche se la Bibbia non ci dice che è colorata ma noi ce la inventiamo così diventa appunto l'intendente di Faraone quindi c'è quella novità in più senza dubbio sì prima Dania gli ospiti che abbiamo incontrato ci hanno parlato molto di tecnica abbiamo parlato di chi fa nascere i propri disegni proprio dalla matita e chi invece giustamente visto che oggi la tecnica lo permette e il mercato anche lo richiede e ci hanno spiegato che questo facilita molto perché accorcia i tempi partono direttamente dalla tavoletta e quindi appunto fanno l'illustrazione digitale allora io so che voi due avete una tecnica particolare come ogni illustratore no? Max sì io no magari prima di passare alla tecnica facciamo presentare anche Max perché abbiamo inquadrato Sandro pastore però insomma passione del disegno collaboratore dell'amico dei fanciulli Max non fai l'illustratore il grafico il disegnatore di mestiere mi sembra di capire ma anche te è una grandissima passione per l'arte sì è una questione di famiglia intanto volevo approfittare di questo momento pubblico per ringraziare pubblicamente Sandro perché io in realtà la mia collaborazione con l'amico dei fanciulli è l'aver mantenuto una promessa che molti anni fa ho fatto a lui mi aveva chiesto puoi per favore collaborare con noi io a quel tempo avevo altre cose da fare gli ho detto sì 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 è passato del tempo ma alla fine poi sono stato molto contento di poter adempiere a questa promessa che avevo fatto a Sandro io ringrazio entrambi perché grazie a questa promessa io ho due ottimi illustratori sì no in realtà sarei agronomo e di fatto è per quello che tengo la rubrica sulle scienze tra le altre cose e poi lavoro per la Claudiana magazzino servizi logistici spedizioni eccetera come nasce la passione per il disegno hai un tuo dono immagino cromosomi perché entrambi sia da parte di madre che da parte di padre la famiglia era composta da pittori o ceramisti scenografi eccetera e io fin da piccolo ho visto dipingere ho visto disegnare se posso aggiungere io ho avuto molti problemi di comunicazione ai limiti dell'autismo il mio unico modo di comunicare da molto piccolo era esprimendomi con dei disegni e ancora adesso il fatto di disegnare è molto sostitutivo del rapporto verbale o interpersonale il disegno è un metodo comunicativo universale che travalica le parole le differenze di idioma quindi insomma è un modo di comunicare bellissimo sì nel caso mio tende a sostituire tutti gli altri è utilissimo anche però è particolare che ti ricordi proprio anche questa necessità che derivava insomma dalla tua situazione di utilizzare il disegno come modo di comunicazione questo è molto bello anche fa parte del tuo percorso della tua vita sicuramente sì ecco faccio vedere non so quanto si vede ma le varie sfaccettature qui c'è Max illustratore qua c'è la rubrica della storia dell'arte quindi cioè tutte le pagine fatte dalla ricerca diciamo del tema iconografico ai disegni magari non in questo caso specifico ma altri sì e poi quella del fumettista perché oggi abbiamo parlato con molti fumettisti quindi questa è anche questa tra l'altro è una leggenda mentre in molti altri casi era appunto la rubrica scientifica in cui questo simpatico maghetto mago magonzo ci porta alla scoperta di diversi fenomeni scientifici qua anche però attraverso una leggenda e abbiamo fatto vedere un po' di immagini quindi adesso torno su questo tema della tecnica visto che ci hanno un po' sollecitato anche gli illustratori prima come nascono i vostri disegni e se la vostra tecnica è cambiata nel tempo come immagino io so ho presente una scena di una cucina col tavolo della cucina dove da una parte si mangia e una parte si disegna chi dei due mi hai spiato una webcam accesa in casa mia me l'hai confidato una volta io sai come ogni giornalista prendo nota al momento opportuno no io semplicemente mi riservo lavoro adesso su delle tavole di legno in modo tale che se ho il tavolo appunto che è occupato da altre cose mi appoggio dove trovo spazio quindi per ora lavoro su delle tavolette di legno tecnica allora come nasce un disegno ho un un quaderno di carta bianca su quale faccio i primi schizzi e per me matita matita o pen quello che c'è a mano diciamo quello che c'è quello che c'è non importa matita o pen l'importante è che io possa incominciare a mettere su carta quello che sento perché per me un disegno deve divertirmi commuovermi intenerirmi cioè la mia speranza è che quello che io disegno possa in qualche modo farmi sentire ciò che provo e allora spero che se lo sento io anche chi vede quel disegno possa sentirlo allora per fare questo non ci vuole tanto bisogna avere un foglio bianco e qualche tratto perché quello per me è il momento più difficile in pochi tratti riuscire a raccontare l'emozione che sento e sentirla perché vedo quei tratti sulla carta e poi dipende dipende che cosa voglio fare sì c'è anche un bellissimo tavolo da disegno solo che ingombro di progetti mezzi fatti e mezzi no stanno lì e quindi devo ripiegare sul tavolo della cucina in quel senso lì via le bucce di mela la pagnotta avanzata eccetera faccio spazio allora visto che parliamo anche di immaginazione quello è un altro mio rischio nel senso io parto di solito su commissione può succedere che mi diano un testo poi visto il nostro contesto potrebbe essere un versetto biblico no o una presentazione di qualche attività delle nostre chiese quindi incentrato su un versetto su una frase a quel punto lì mi sono molto d'accordo ci ritrovo anche io con quello che diceva Sandro adesso se non che poi interviene una immaginazione piuttosto sfrenata per cui alla fine quando presento il lavoro mi dicono bellissimo complimenti bravo ma cosa c'entra con quello che ti abbiamo chiesto è vero avete ragione ripasso di nuovo tutta la lettura la rilettura del testo perché io parto sempre da lì e cerco di fare delle cose anche pensando che altri devono poter capire e condividere con me le emozioni le suggestioni di cui parlava Sandro insomma mi sembra che si inquadri bene nel titolo vite immaginarie perché l'immaginazione c'è e deve esserci perché se no non sarebbe un disegno libero ma sarebbe una copiatura sarebbe una trasposizione di qualcosa che già esiste però un radicamento sulla realtà e sul terreno che accompagna il disegno è altrettanto necessario altrimenti rimane forse poco comprensibile poi per carità ognuno ha la propria sensibilità e l'arte astratta è fatta anche di cose a volte incomprensibili ma che sono pensate per essere fatte così quindi ognuno appunto può trovare un canale comunicativo in qualsiasi tipo d'arte però in questo caso forse la comunicazione soprattutto con i bambini deve avvenire anche su dei metodi diversi ecco pensiamo proprio a questo lavoro che fate voi lavorate per un pubblico giovane per dei bambini vi mettete a pensare a questa cosa cioè lavorate pensando a questo o non c'è molta differenza per voi tra adulti e bambini allora io non sono un illustratore mi piacerebbe averlo potuto fare ma poi ho deciso di fare altro lo faccio quando ho tempo e questo significa che il problema più grande che io ho è il tempo cioè io devo fare qualcosa darlo a Sara senza farla tendere troppo perché la faccio aspettare sempre molto e farlo allora questo significa che inevitabilmente un'illustrazione ha un tempo di costruzione molto lungo perché prima la penso poi trovo la carta giusta poi faccio però questo ha anche un vantaggio perché significa tornare all'illustrazione e vedere se parla se parla c'è una differenza quando illustro per l'amico dei fanciulli e quando faccio altre cose non molto veramente nel senso che la mia speranza è ripeto suscitare un'emozione allora certamente quando mio figlio o mia figlia erano più piccoli gli chiedevo ti piace questo disegno che cosa ti dice allora lì ero aiutato adesso i miei figli sono cresciuti e quindi mi aiutano di meno però possono dire sì papà mi piace oppure no non mi piace ma sostanzialmente secondo me se un'illustrazione funziona perché l'illustrazione serve a chi la guarda non serve a chi la fa non serve proprio a chi la fa secondo me questa deve essere la distinzione più grande tra l'illustrazione e un'opera d'arte cioè un'opera d'arte ha un carattere enigmatico che dipende dalla profondità di ciò che l'artista vuole dire l'illustrazione deve servire a chi la guarda per cui un'illustrazione che è troppo cervellotica che è troppo a me non convince poi appunto non sono un illustratore quindi pazienza se dico una sciocchezza ma l'illustrazione deve servire a chi la guarda allora in questo senso secondo me non c'è una differenza sostanziale se illustro per delle bambine o dei bambini o se illustro per altri spero che si divertano così come mi sto divertendo anch'io quando faccio quella roba lì che si inteneriscano quando riesco a tratteggiare quel volto lì ecco questo è ciò che spero di fare insomma nei ritagli di tempo ecco ancora una volta devo ringraziare Sandor che mi ricorda che l'illustrazione serve a chi la guarda e non a chi la fa grazie sì alla fine ho sempre sono sempre arrivato alla conclusione che quando disegno per persone adulte in realtà vado a pescare molto sulla mia immaginazione infantile e penso serva anche a loro e Sara mi può confermare io spesso sull'amico dei fanciulli quindi rivolto a un pubblico infantile ho invece trattato delle cose da grandi in maniera anche molto diciamo ardita al di sopra forse rischiando di andare al di sopra della possibilità di comprensione ma io da piccolo leggevo libri difficilissimi senza capire niente ovviamente ancora adesso però lasciava delle suggestioni che poi dopo vent'anni dopo trent'anni dopo studiando ho ritrovato e non era la stessa cosa non era come non averli mai visti e io sto cercando di fare le stesse cose con i bambini e le bambine cioè miro molto in alto perché qualcosa vi rimarrà e quando vi trovi ho fatto anche una serie di storielle su biografie di scienziate donne perché avevo già prima in tempi ancora non sospetti e ho pensato di incoraggiare le ragazzine proprio per intraprendere studi scientifici e i temi trattati erano abbastanza ostici però no ho voluto trattarli da grandi hai capito che responsabilità che abbiamo però è interessante questa ricordo che avevamo avuto uno scambio con Max perché non è l'unico ci sono diversi contenuti che effettivamente mirano molto in alto e ogni tanto la domanda è ma sti poveri lettori cioè li come dire li sdraiamo subito o li stimoliamo come dice Max la rubrica sulle parole difficili spiegare le parole difficili palinsesto tanto li sentono una cosa che mi ha che mi ha stimolata questa riflessione che hanno fatto loro il disegno deve cioè l'illustrazione deve servire a chi guarda e non a chi lo fa però io immagino che serva anche a voi cioè serva in senso ampio ovviamente non in termini utilitaristici a disegnare a illustrare anche se tra virgolette su commissione dietro l'alto compenso dell'amico che è la gloria in peritura appunto serve io penso serve anche agli illustratori in qualche modo in quale modo è una non so un atto di libertà è un ritornare bambini è un uscire fuori dalla quotidianità o non so butto lì la domanda sì no ogni disegno per altri versanti serve anche a me quando disegno e penso che in realtà un po' sia sia la cosa comune come ho detto prima spesso mi trovo a dover disegnare sulla base di un testo sulla comprensione di un testo beh questo testo io devo farlo mio e se è un testo biblico in pratica io devo farmi una piccola esegesi e sentire come questo testo riverbera dentro di me nella mia esperienza e ogni volta che il disegno è finito lo consegno ma io dentro di me ho avuto diciamo così un'esperienza di arricchimento di maturazione di scoperta anche uno dei miei professori alla scuola d'arte del castello diceva che l'armadio dell'illustratrice dell'illustratore è pieno di disegni brutti e diceva è importante che voi buttiate buttate tanto non abbiate paura di buttare allora io non butto più niente perché faccio troppo poco per permettermi di buttare però poi quando vado a riprendere quello che ho nel mio armadio perché le nascondo molto bene trovo alcune cose che francamente non mi piacciono e altri che dico beh questa è proprio bella questa funziona se posso le cose belle le regalo non me le tengo poi nei cassetti allora sì mi serve mi serve perché allora per due ragioni intanto perché disegnare è anche un artigianato e quindi io mi accorgo che se io non disegno la mia mano si anchilosa si dice così è giusta l'accentazione insomma si ferma diventa meno mobile è meno immediato il rapporto tra ciò che vedo immagino e ciò che faccio e questo è frustrante allora è bene tenere un po' l'esercizio intanto serve a questo tenere l'esercizio poi l'amico si dà gloria in peritura perché è il più antico ricordiamolo è il più antico è la più antica rivista per bambini d'Italia attualmente in pubblicazione sì quindi mica male siamo dentro come dire all'ingotto che attualmente non è più quello che era e invece l'amico di fanciulli lo è quindi in peritura ce lo prendiamo allora sì per quanto io poi faccio dei disegni che sono veramente molto ordinari però mi permettono di pensare lateralmente sì allora non perdere la mano serve lo dico spesso Sara Sara fammi disegnare così almeno non perdo la mano e poi perché comunque un po' di pensiero laterale c'è e poi la gioia di poter regalare un disegno che a me sembra bello ad una persona che voglio bene quella è la terza cosa a cui mi serve illustrare e poi il divertimento proprio la gioia nel poter in qualche modo fare una cosa che piace fare questo secondo me è importantissimo e da da più o meno professionisti amatoriali però insomma così come a chi piace scrivere scrivere una soddisfazione a chi piace disegnare disegnare è proprio una soddisfazione quando dice una cosa bella dice oh che soddisfazione quindi io ringrazio sia Max che Sandro grazie a voi facciamo ancora vedere l'amico dei fanciulli di cui Sara torna sempre in radio a presentarci di volta in volta il numero uscente tra poco arriverà il numero arriva il numero estivo si sta uscendo il numero di giugno quindi è in stampa quindi presto ci rivedremo sempre su questi microfoni ma altrove in studio in studio non più in trasferta chiudiamo la puntata cara Sara è stata molto bella abbiamo davvero chiacchierato con tante persone abbiamo scoperto tante sfaccettature del mondo dell'illustrazione del fumetto della grafica speriamo sia piaciuta anche a voi la potrete riascoltare potrete riascoltare i podcast scaricati ovviamente sul sito rbe.it grazie a Sara che mi ha accompagnato in questa avventura Max e Sandro i nostri ultimi ospiti e ai tecnici che hanno permesso questa diretta alla prossima grazie a voi grazie a voi alla prossima grazie a tutti arrivederci grazie a tutti